C'è un messaggio per te, comandante. È appena arrivato da un canale sicuro. Shepard, sono l'ammiraglio Kaoku. Ho scoperto chi ha chiesto quella trappola ai miei uomini, quegli uccisi dal divoratore. Accidenti, spero che riceverà questo messaggio. È stato un gruppo chiamato Cerberus, un'organizzazione segreta dell'Alleanza con accesso a qualsiasi livello di sicurezza. Sono scomparse alcuni mesi fa, svaniti nell'ora. Nessuno sa dove siano finiti o cosa avessero in mente. Credo che abbiano tradito l'Alleanza Shepard. Stanno conducendo esperimenti genetici illegali per creare una specie di super soldato. Non posso ancora provarlo, ma ho ottenuto le coordinate di una loro base di ricerca. Sono allegate a questo messaggio. Sono completamente fuori controllo. Qualcuno deve fermarli. Io ho fatto la mia parte. Ora tocca a lei. Questa sarà la mia ultima comunicazione, Shepard. Cerberus mi sta cercando. Devo nascondermi prima che mi trovino. Sì. 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 Grazie a tutti 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 Vado subito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti